Sicilia è in lutto per la morte di uno degli assessori regionali, Sebastiano Tusa, titolare dei beni culturali e come tale anche per la sua formazione di archeologo e di studioso, depositario dell'indennità e della cultura dell'isola, che oggi sono il valore impersonato della sua vita tragicamente spezzata. Era uno dei 157 passeggeri del Boeing dell'Ethiopian Airlines, decollato da Addis Abeba con destinazione Nairobi, precipitato senza scampo per nessuno. Era diretto in Kenya, dove avrebbe partecipato ad un seminario in cui era stato invitato come relatore dall'UNESCO, nell'ambito di un accordo stipulato con il governo Kenyota per una nuova stagione di scavi e ricerche di archeologia subacquea. Già ieri, domenica, bandiere e ammezzaste in tutti gli uffici della regione. Forte la commozione, immediate le reazioni e le manifestazioni di cordoglio. Figlio d'arte di un indimenticato soprintendente di Palermo, Sebastiano Tusa si è sempre fatto ammirare per la preparazione scientifica nel campo dell'archeologia, in particolare preistorica, spaziando su un piano non solo siciliano ma mediterraneo in generale. E questo tra i tanti uno dei riconoscimenti alla sua memoria. Grazie a tutti.